Yannick Sinner è il nuovo re di Umago, veramente una finale straordinaria, una delle migliori secondo me prestazioni in carriera da parte di Sinner, non me nascondo a dirlo, veramente è stato meraviglioso, ha giocato nei momenti decisivi in una maniera pazzesca, è stato mentalmente stupendo, non ha mai tremato e soprattutto ha resistito ed è stato un grandissimo giocatore, ha dimostrato di essere veramente già un top 5 proprio nei momenti in cui Alcaraz poteva prendere in largo perché dopo quel tiebreak maledetto in cui Alcaraz era andato avanti 5 a 1, in cui Sinner era rientrato, aveva giocato benissimo quel punto del 5 a 6 e Alcaraz aveva trovato quel passante incredibile che aveva costretto Sinner a quella di mi volé poi messa in rete e un primo set che poteva assolutamente dare una piega definita alla partita e indirizzare la partita verso la Spagna, verso Alcaraz e invece Sinner è stato meraviglioso e ha fatto girare la partita mentalmente, ha distrutto mentalmente Carlos Alcaraz proprio nel secondo game del secondo set perché quello è stato il punto di svolta, tutti i primi game del secondo set ma in particolar modo quello in cui ha annullato 6 break point allo spagnolo risalendo da 040 andando su uno pari poi breccando il game dopo alla seconda palla break poi annullando ancora 3 palle break nel quarto gioco ed è lì che veramente è stato è stato glaciale e ancor più glaciale è stato nel terzo perché anche lì Alcaraz ha avuto la prima chance e Sinner l'ha annullata da grande e poi ha breccato anche lì il game dopo è stato di un cinismo straordinario sulle pade break e ha giocato i punti importanti veramente in una maniera pazzesca dare 6-1 6-1 ad Alcaraz seppure magari non sia il migliore Alcaraz sulla terra è tanta tanta roba si cominciano a vedere miglioramenti perché è un Sinner che è veramente aggressivo è un Sinner che che anche oggi negli scambi lunghi dall'inizio della partita in cui sembrava che comunque avesse qualcosa in più di Alcaraz negli scambi prolungati sembrava che avesse qualche cartuccia in più da giocarsi negli scambi prolungati e teneva lo scambio teneva lo scambio da fondo continuava a pressare da fondo e conteneva anche i momenti di furia di Alcaraz e in questo ragazzi la differenza è emersa in questo momento Sinner nei punti decisivi ha molta più maturità rispetto ad Alcaraz perché Alcaraz magari cerca sempre anche di fare un punto bello a volte non sa neanche leggere i momenti secondo me della partita perché gioca tutti i punti e cerca di fare sempre il punto bello cerca sempre di giocare il vincente magari in ogni situazione cerca sempre di spaccare la palla in ogni situazione anche anche quando invece nei punti decisivi devi far giocare certe volte l'avversario Sinner veramente nei punti decisivi è tornato ad essere il vero Sinner è veramente tornato ad essere il vero Sinner quel Sinner che ci aveva incantati ai suoi inizi a livello ATP proprio quel giocatore che riusciva nei momenti decisivi ad esprimere il meglio del proprio tennis e oggi il servizio gli ha dato una mano ha risposto con una reattività fantastica da smorzata ha funzionato si è mosso per il campo benissimo e ha schiantato fisicamente e mentalmente Alcaraz perché non ne aveva più alla fine della partita perché ti fa andare fuori di testa e devi essere veramente un grande giocatore perché Sinner soprattutto all'inizio del terzo il punto doveva vincere 3 4 volte perché Alcaraz era scatenato riprendeva tutto riprendeva gli smash aveva perso un punto rocambolesco alla fine del primo set aveva perso un punto rocambolesco sullo 0 30 del secondo game del secondo set e quello appunto è stato il punto di svolto dal 0 30 era andato 0 40 dopo che aveva veramente condotto alla perfezione tutto tutto il punto e poi lo smash che non era stato abbastanza incisivo Alcaraz che aveva giocato al passante ecco lì io veramente non so quanti giocatori sarebbero risaliti avrebbero reagito e sarebbero riusciti a a reggere proprio mentalmente e a risalire la corrente in quella maniera perché poi 0 1 hai appena perso il set in maniera estremamente dolorosa 0 40 tutte quelle vale break tutte quelle chance e lui è stato estremamente concreto poi ad andare uno pari e veramente l'ha fatta partire l'ha fatta girare la partita psicologicamente ancor prima che poi fisicamente perché poi Alcaraz veramente nel terzo alla fine non ne aveva più non ne aveva più e si è dimostrato superiore anche da quel punto di vista anche dal punto di vista della tenuta fisica della resistenza e della e della lunga durata ragazzi gli italiani continuano a essere indigesti a carlos Alcaraz ieri con zeppieri non è che sia andata così lontano dalla sconfitta aveva giocato un match bellissimo ieri il buon zeppieri e alla fine purtroppo non sarebbe potuto giocare fino in fondo oggi sin era veramente dimostrato di essere un top ten di essere pronto a fare uno step in avanti mi aspetto grandi cose da sinner nei mille americani e agli us open può essere un finale di stagione che lo catapulta veramente nel tennis che conta e lo catapulta veramente fra i primissimi del mondo perché ancora mancava quello step mancava quel passettino in più per sinner per diventare veramente un grande giocatore per diventare veramente un un giocatore completo un giocatore che può stare nei primi dieci può ambire a fare quel saltettino in più andare nei primi cinque e lottare per la vittoria dei mille degli slam ecco sinner pian pianino con questo processo di crescita che sta operando comunque con bagnozzi questo passettino lo può cominciare a fare e quindi veramente questi prossimi tornei saranno molto importanti per per la crescita di sinner è stato veramente eccezionale a giocare proprio bene i primi game del secondo set del terzo set te lo insegnano le scuole tennis ma sai che proprio in quei momenti puoi fare svoltare la partita e lui è stato veramente meraviglioso dare 6-1 6-1 dal canaz sulla terra battuta è per pochi eletti e fare quello che ha fatto lui oggi mentalmente è veramente per pochi eletti grandissimo jannick sinner fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate una valanga che mi piace il video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto è a questo punto arrivederci al canale al prossimo video